Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Francia 11, oggi siamo qua in questo video molto particolare improvvisato perché mi sono accorto che oggi è il 9 di giugno, non mi ricordavo manco il mese oggi è il 9 di giugno vuol dire che finalmente la nuova skin di Jesse Alenadraghi è arrivata gratuita nel negozio come vedete ce l'ho qua, l'andremo a riscuotere e l'andremo anche a provare magari in sopravvivenza è una skin gratuita per tutti, molto molto carina, per festeggiare l'arrivo di Brewstars in Cina mi sembra scusate, e niente, niente da dire, è una skin molto particolare che andremo adesso subito a riscuotere ok, come vedete non cambia particolarmente per quanto riguarda le animazioni, infatti è sempre la stessa però ci può stare, infatti come vedete mi è arrivata anche la notifica skin reghessa rossa mi è arrivata Jesse Alenadraghi, non mi ricordo neanche quale fosse il nome Jesse, eccola qua in fondo, non la uso molto spesso però Jesse Alenadraghi ok, che è veramente molto molto carina, come vedete si presenta così è una skin carina che vi consiglio di prendere, se potete accedere prendetela andiamo a provarla subito in sopravvivenza in due ci facciamo una partita, vediamo un po' che cosa ne penso, vediamo un po' com'è giocarci e valutiamo, allora esteticamente è molto carina, devo dire, con questo abbinamento di colori rosso e giallo, è molto 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 carina, il colpo come vedete è lo stesso non cambia assolutamente gli effetti del colpo per quanto riguarda la super vedremo, cambierà la torretta ma non penso i colpi a quanto ho visto anche dai video degli sviluppatori, qua ce n'è un'altra, fra l'altro carina ok, laggiù, abbiacchiamo penni, ok, buono, Jesse non la uso tanto, non sono molto bravo perché non è un brawler che particolarmente mi piace però comunque dai, ci sta, è una skin carina, potete, potrei tranquilli è una skin che varrebbe 30 gemme, è una skin sicuramente da non di più è comunque una skin che ci sta, una cosa in più da mettere come abbiamo visto anche per il bull vichingo, no il bull re barbaro, qua sono morto lo stecca brigante, insomma una skin in più gratuita per festeggiare appunto che ci viene regalata intanto qua aspettiamo di respawnare, perfetto, allora ci siamo riusciti a salvare ci sono ancora 4 squadre rimaste, aiuto il mortaio già che mi mira a me siamo in una situazione brutta, molto brutta, qua la penny mi tira di nuovo giù, eccala allora dobbiamo sperare di non farci buttare giù adesso dalla penny che c'ha il succhetto abbiamo 3 power up, ci può stare, non siamo sicuramente messi benissimo sotto questo punto di vista ma ok, perfetto, è resistita ancora, allora dobbiamo cercare innanzitutto la torretta come vedete è diversa ma i colpi non cambiano, me l'hanno subito, c'è manco il tempo di provarla me l'hanno già tirata giù, va bene, qua cerchiamo di tirar giù il barril ok, è andato perfetto, no, ecco qua, ok comunque siamo 3 squadre rimaste quindi dovrebbe essere un più 2 o un più 1, una cosa del genere eh no, qua mi sa che è... non è detto, perché la Jessie è andata, uh è morta signori, attenzione, scontro finale con la nuova skin di Jessie, ad esempio riusciamo a vincere un po' difficile, la vedo però è fattibile oddio, dobbiamo tirare giù qua questo mortaio qua che è un po' fastidioso, giusto per... eh no, mi sa che questa qua è una partita persa eh no, vabbè contro un'altra Jessie e Lena Draghi comunque skin veramente carina, a mio parere, skin molto molto carina da prendere assolutamente per festeggiare appunto niente, questa è quanto, l'avete vista anche in azione, l'avete vista comunque già qualche settimana fa ehm... dai partner sviluppatore, ma... dai partner supercell, scusate ma questo è quanto, per questo video mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like al video attivate la campanellina per non perdervi nessuna delle mie notifiche, nessuna notifica e noi ci rivediamo alla prossima, ciao 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 ciao